Ma... Dov'è andato il mio europeo? Dov'è? Dov'è andato il mio europeo? Ah, eccolo qui. Non mi ha notato. Devo avvicinarmi e farmi vedere. Altrimenti si offende. Ora vado. Andiamo a ballare. Ora vado. Ora vado. Ora vado. Sì, sì. Ma dovrò portarmi fuori, ecco la bella. Ma che bella, che bella, che bella. Signore, signore. Non riesci a sentirmi. Vorrei dire che lo raggiungerò più tardi. Sì. Mi ricordo quando mi portaste al primo bar. Sì. 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 Grazie! 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 I valli di Pietroburgo sono i più soltuosi di tutta l'Europa e poi c'è una atmosfera così semplice! Provate! È come se fosse l'unica grande famiglia! A questo ballo ci saranno non meno di 3.000 persone, vero? No, non così tante! Sì, forse un po' meno! Oh, ho dimenticato tutto, tutto, ho dimenticato tutto! Sto danzando malissimo! Ho dimenticato tutto, tutto, tutto! Ora mi ricordo! Pian piano sto ricordando tutto! Ecco, bene! Molto bene! Molto bene! Che bello! Hop, hop, hop! Che bello! Non c'è! Non c'è il tuo ноч- Che bello! Che bello! Che bello! Ancora, ancora! No, io non potrei male, te la so. Grazie.